Quando è che abbiamo la necessità di star lì ad ascoltare il parere dell'agente immobiliare? A quale agente immobiliare dare ascolto, ascoltare bene ciò che ci dice e rubare, nel vero senso della parola, dalla sua esperienza, le soluzioni ai nostri problemi e alle nostre perplessità? Questo succede a Michele in questi giorni. Ti racconto brevemente ciò che sta accadendo a Michele, un ragazzo che seguo negli investimenti immobiliari nella zona nord di Milano e che in questi giorni ci stiamo scambiando delle informazioni, dei ragionamenti, per poi prendere delle decisioni. Succede che in questi giorni con Michele abbiamo depositato una proposta d'acquisto per un bilocale, un bilocale per il quale abbiamo fatto un'offerta di 80.000 euro su una richiesta di 109. L'agente immobiliare che propone in vendita l'immobile non lavora principalmente nella zona in cui è ubicata la casa, lavora in tutta altra zona di Milano, ha una casa in vendita lì. Michele però nel frattempo ha lasciato rapporti, come da metodo, con gli agenti immobiliari di zona. Significa che è entrato in confidenza, ha acquisito lavorando, abbiamo fatto insieme molti incontri con gli agenti immobiliari personalmente, e infatti ha acquisito quella che è la fiducia, quale investitore immobiliare, degli agenti immobiliari di zona. Quindi riesce con tutta tranquillità ad entrare in agenzia immobiliare ed uscire fuori con le informazioni che gli necessitano. Questo per Michele non è un problema. Il rapporto che volevamo creare con gli agenti immobiliari è stato creato. Succede questo, che l'immobile può essere trasformato in trilocale, quindi da bilocale a trilocale. Questo può permettere a Michele di eventualmente aumentare la sua proposta d'acquisto nel momento in cui se la dovesse vedere rifiutata. E quindi iniziamo a raccogliere informazioni in merito alla rivendibilità del trilocale. E quindi il lavoro adesso è entrare in possesso di informazioni certe e documentate di cosa sta accadendo adesso in quella zona con i trilocali. Succede questo, che l'agente immobiliare che propone a Michele l'acquisto del bilocale per il quale è stata fatta proposta d'acquisto, dice a Michele, sì, effettivamente, se tu riuscissi a trasformare quell'appartamento da bilo a trilocale, ovvio che tu avrai tutt'altre prospettive di rivendita. Ricordiamo che l'agente immobiliare che dice questo, che propone in vendita l'appartamento, è attivo in un'altra zona della città di Milano. Poi Michele passa a raccogliere informazioni dai suoi amici agenti immobiliari, quelli con il quale abbiamo creato insieme un rapporto di fiducia-stima reciproca. E questi agenti immobiliari dicono, no, guarda Michele, se lo trasformi in trilocale, un trilocale forzato, quindi con una soluzione planimetrica andrebbe a discapito degli spazi di giorno per aumentare quelli che sono gli spazi di notte, naturalmente bisogna creare una stanza in più e ci sta. Abbiamo visto su carta che la soluzione planimetrica da trilocale ci sta, ma questa andrebbe a discapito della vivibilità, degli spazi fruibili della zona giorno, quindi la riduzione in sostanza del soggiorno. Ecco, gli agenti immobiliari, i due agenti immobiliari che Michele conosce bene, dicono a Michele che non ti conviene andare ad investire di più per la trasformazione da bilo a trilo, perché poi il risultato finale, sia in termini di tempo che in termini di ritorno economico, non sarebbero così entusiasmanti. Ecco, a chi dare retta? In questi casi cosa si fa? Io dico sempre di stare sempre ad ascoltare gli agenti immobiliari, ma una condizione, che l'agente immobiliare sia un agente immobiliare che lavora da anni in quella zona, che ha avuto esperienze ripetute di vendita di case in quella zona, che riesce a dimostrarmi qual è la reale commercializzazione degli immobili in quella zona. Dico sempre di ascoltare gli agenti immobiliari datati, quelli con la barba bianca, quelli che mi dimostrano che sul campo ci lavorano da tempo. Quindi non è per screditare nessuno, ma se un giovanotto che si affaccia al mondo del mercato immobiliare, quale agente immobiliare da uno, due anni, mi viene a dare delle sue opinioni, io non è che non lo ascolto, ma devo andare per forza di cose a verificare ciò che mi sta dicendo. Non posso basare le mie operazioni immobiliari su qualcuno che mi dà consigli basati sul io penso che. Io preferisco lavorare, visto che gli investimenti immobiliari li facciamo con i soldi, non con le chiacchiere. Preferisco basare le mie decisioni, i miei ragionamenti, su qualcuno al quale mi rivolgo per chiedere informazioni e che mi risponde con un io so che. E me lo dimostra. Questo video non è per dirti quale dei tre agenti immobiliari abbiamo ascoltato. Perché abbiamo ascoltato due campane completamente differenti. Non abbiamo ancora preso la decisione. Adesso stiamo chiedendo riscontro agli agenti immobiliari. Stiamo chiedendo riscontro sul perché. Cioè mi dici questo? Ok, e ti ringrazio. Ma perché mi dici questo? Perché probabilmente potrebbe essere che il target di riferimento, visto che l'immobile una volta messo in vendita da bilocale, sarà un immobile a mettere in vendita a 120, mentre da trilocale sarà da 150, 145. E potrebbe essere che noi non abbiamo informazioni certe sul target di persone che riesce ad acquistare in tempi brevi, senza alcun problema, case in quella zona. Se il target di riferimento che si rivolge all'agenzia, che cerca una casa, e lo vedono dalle richieste, lo vedono dalle transazioni, dalle compravendite che stanno facendo in questi giorni, in questi mesi, sono persone, famiglie, composte da moglie e marito, dove lui lavora, la busta paga, lei magari no. Quindi se la famiglia tipo che cerca casa è composta così, vale a dire che l'accesso al mutuo, l'accesso al credito bancario, è di una famiglia con uno stipendio, massimo che possono chiedere, di finanziamento, è 120. Quindi si restringerebbe il mercato, di conseguenza la fetta dei potenziali acquirenti, con una capacità economica pari a 120, 115, 125, verrebbe a sparire. Non possiamo più rivolgersi a quel tipo di target. E magari gli agenti immobiliari di quella zona, che lavorano da anni in quella zona, lo sanno che in quella zona ruotano persone di questo tipo, famiglie corrispondenti a questo tipo di target. E magari l'agente immobiliare, che si ritrova l'incarico di vendita di un bilocale, in quella zona, abituato a lavorare su un'altra zona della città, potrebbe non avere questo tipo di informazioni in merito al mercato. Ricordiamo, il mercato è fatto di persone. E quindi potrebbe non essere un consiglio da cogliere. Però questo bisogna accertarlo. Come si fa ad accertare se l'agente immobiliare ci sta dando opinioni o informazioni su ciò che sa e non ciò che pensa. Con il riscontro. Quindi ci si siede con gli agenti immobiliari, quelli a quali ci rivolgiamo per avere le informazioni, e bisogna andare oltre sull'informazione che ti viene data. Una volta che ti danno un'informazione, sì, Michele, trasforma questo immobile da bilocale a trilocale, perché sicuramente lo andremo a vendere, a proporre non più nella fascia di prezzo da 120-115, ma nella fascia superiore. Immobili in vendita a 145-150. Ok, caro agente immobiliare, mi dimostri qual è l'andamento, quali sono le transazioni chiuse negli ultimi tempi per case che sono state vendute su quella fascia di prezzo. Posso vedere quanto tempo sono state sul mercato, da quando hai inserito l'annuncio a quando hai ricevuto la prima proposta d'acquisto utile, quanto tempo è passato, chi erano queste persone, quante proposte d'acquisto vincolate al mutuo poi non hanno avuto alcun seguito. Stessa domanda, in questi giorni faremo agli agenti immobiliari che ci dicono invece no Michele, non trasformare l'immobile da bilocale a trilocale. Ok, dimostrateci perché, fateci vedere cosa avete fatto negli ultimi 4 mesi, su transazioni, compra vendite fatte sui bilo e trilo. Stesso discorso, mi fai vedere come è andato il mercato, quanti click ha ricevuto il bilo, quanti click dal web ha ricevuto il trilo. Ricordatevi che gli agenti immobiliari hanno la possibilità di vedere i report dei portali immobiliari, quanti click riceve un annuncio, quante mail genera quell'annuncio. È un report che pagano e che nessuno chiede, a parte i compro casa. Bisogna sempre chiedere queste informazioni in merito a una tipologia in una determinata zona, su una fascia di prezzo. Perché noi diamo al mercato, almeno noi compro casa, diamo al mercato ciò che il mercato cerca, ciò che il mercato vuole. Quindi fammi vedere come sono andati gli annunci dei bilo, mostrami come sono andati gli annunci dei trilocali, quanto tempo sono stati in vendita gli uni e in quanto tempo sono andati via sul mercato gli altri. Stessa cosa, proposte d'acquisto sicuramente vincolate al mutuo, quante proposte d'acquisto vincolate all'accettazione del mutuo bancario di 140-150 mila euro, poi si sono rivelati un nulla di fatto. L'investitore immobiliare non sta lì a perdere tempo per sperare di guadagnare 20-30 mila euro in più. L'investitore immobiliare, compro casa in particolare, è un serial killer. Sta lì, bom, 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 non aspira all'operazione da 40-50 mila ma disposto ad aspettare 4-5 mesi. Non aspira a questo. L'investitore immobiliare, compro casa, ripeto, che si affianca con me a fare investimenti immobiliari ha due obiettivi. Fare il maggior numero di operazioni e farle nel più breve tempo possibile. È disposto anche a guadagnare meno, ma più volte. Risultato è sempre lo stesso, se non maggiore. Almeno per quanto riguarda noi compro casa. Gli altri non lo so. Lo scopo dei compro casa è acquisire informazioni certe, documentate e dimostrate, per poi andare a ragionare, prendere le decisioni in merito all'operazione che sta mettendo in piedi. Alla base di tutto c'è acquisire competenze, acquisire un metodo per diventare dei serial killer. Come vedi, questi sono i problemi e le argomentazioni che affronta un investitore immobiliare tutti i giorni. Queste sono le situazioni che si ritrova a vivere e per le quali si ritrova, viene chiamato a prendere delle decisioni un investitore immobiliare. E queste sono le situazioni nelle quali devi essere in grado di uscirne con la decisione giusta, con i giusti ragionamenti. E queste sono le situazioni che non può spiegarti e raccontarti nessuno alla lavagna, su un webinar, su un videocorso, su un'accademia. E nessuno riesce a spiegarti di quelli che vendono, offrono informazioni sul mondo del mercato immobiliare alla lavagna, con una slide, con uno Skype. Non è possibile. Questo è il mercato immobiliare, fatto di case, fatto di agenti immobiliari, fatto di strategie. Ora mi piacerebbe sapere, e ti prego di scrivermelo nei commenti, se ti va, quali ragionamenti faresti tu in merito. Come imposteresti tu la tua strategia di investimento e quale scelta faresti, bilocale o trilocale. Quali elementi andresti a raccogliere tu di quella zona di Milano per poi metterti seduto a fare le giuste considerazioni e poi prendere le dovute decisioni. Fammi sapere qual è il tuo metodo. I link qui sotto in descrizione. Ci vediamo dall'altra parte.